Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. In questo video torniamo a parlare di libri, l'argomento con cui ho iniziato a fare video, diciamo il motivo per cui questo canale è nato, ovvero sia fare recensioni di libri di storia. Uno dei libri più interessanti che mi è capitato sottomano in quest'ultimo periodo, insieme a Un Papa in guerra di Kertzer, del quale sto finendo la lettura, diciamo che ho in contemporanea la lettura di due libri. Un Papa in guerra di Kertzer, dicevo eccolo qua, che sto finendo di leggere e che ritengo uno dei migliori libri di storia degli ultimi anni, ok? E un libro che mi ha regalato Lorenzo Tognoli, uno degli utenti più affezionati di questo canale, e che mi ha fatto un regalo eccezionale e estremamente prezioso. Lorenzo Tognoli mi ha regalato questo libro, Il continente selvaggio, l'Europa alla fine della seconda guerra mondiale. La fascetta di copertina dice che questo successo internazionale è un libro eccellente. Parola di Ian Kershaw e credo che il nome Ian Kershaw insomma sia garanzia di assoluta qualità. Tanto per dire, è l'autore oltre che della monumentale biografia di Hitler che è considerata la migliore biografia del Führer mai scritta anche di questo fondamentale libro che vi consiglio sempre di leggere, ovvero sia Hitler e l'enigma del consenso. Kershaw ha parlato di questo libro come di un'opera sensazionale. Infatti dice che è un racconto vivido, agghiacciante, delle vendette sanguinose, delle rappresaglie, delle feroci pulizie etniche che tennero in pugno l'Europa subito dopo la seconda guerra mondiale. Un quadro poco conosciuto e terrificante di un continente nel vuoto assoluto della legge, nel caos e nella violenza senza limiti. E ripeto, Ian Kershaw dice che si tratta di un libro eccellente. Io lo sto leggendo e vi dico una cosa, si tratta di un racconto spaventoso, mostruoso, agghiacciante, terrificante. Dovete sapere, forse ve ne sarete anche accorti, che spesso e volentieri nei miei video o nei miei interventi sui gruppi facebook di cui faccio parte, me la prendo contro gli indignati e coloro che sposano aprioristicamente le tesi di pseudostorici come Stella e come Pansa, per i quali come dire nel dopoguerra tutto doveva finire con un tratto di penna, dopo una stretta di mano, pacche sulle spalle, ci siamo scannati fino a cinque minuti fa, la pace è stata firmata o è tutto finito, amici come prima. Questi ragionamenti possono andare bene ora a 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Di sicuro, di sicuro, nel 1945 questi aulici ragionamenti oh la guerra è finita, oh riprendiamo ad andare a braccetto tutto quanto così, no signori non funziona così, no signori non funziona proprio così. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'Europa era un posto senza legge, senza regole, preda dell'anarchia più totale, della violenza più cieca, più brutale e più spaventosa. Un luogo dove si regolarono conti sanguinosi, un continente dove nonostante la fine della guerra si versarono fiumi di sangue. Dopo la firma della pace dopo la resa tedesca si versarono realmente fiumi di sangue. Questo libro che Kershow definisce, come ho già detto, un resoconto agghiacciante, e agghiacciante credo che sia la parola giusta narra quello che accadde. Ucraini contro polacchi, polacchi contro ucraini, cechi contro slovacchi contro cechi, slovacchi contro ungheresi, slovacchi e cechi contro polacchi, cechi e slovacchi contro di loro, tutti contro i tedeschi. Una cosa che veramente si parla di centinaia di migliaia di morti dopo la fine della seconda guerra mondiale. Dopo la fine della guerra realmente centinaia di migliaia di morti, forse più di un milione, in tutta Europa causati dalle vendette, dalle rappresaglie, dalla brutale voglia di farla pagare in generale, non solo ai tedeschi, che realmente, cioè ripeto, io non ho come dire altre parole, se non quelle veramente di descrivere questo libro, i racconti, gli eventi descritti in questo libro non possono essere descritti, cioè non possono essere definiti se non come terribili, atroci, bestiali, spaventosi e che poco o nulla hanno da invidiare a quanto combinarono i tedeschi durante il conflitto. I tedeschi pagarono un prezzo spaventosamente alto per quello che avevano combinato durante la guerra. Ah ma i civili non c'entravano. Allora mettetevi nei panni magari di un soldato polacco che combatteva a fianco dell'armata rossa. Torna in Polonia, si trova di fronte Varsavia piallata al 97%, si trova di fronte un paese distrutto, si trova di fronte un paese che ha avuto milioni e milioni di morti, un paese che non esiste praticamente più, un paese annientato. La Polonia era un paese annientato. Non stiamoli a discutere sulla storia, la spartizione, gli alta, i polacchi. Ok, mettiamoci nei panni di un soldato polacco arruolato nell'armata rossa e c'erano, che vi piaccio meno, c'erano soldati polacchi arruolati nell'armata rossa che ritorna in Polonia dopo anni, dopo magari la prigionia in Siberia, dopo avere combattuto contro i tedeschi per lunghi anni e si trova di fronte un paese distrutto. Magari ha perso padre, madre, parenti, tutto. Magari il suo villaggio non esiste neanche più, il suo paese non esiste neanche più, il paese nel senso di centro abitato. La sua città non esiste neanche più perché è stata letteralmente cancellata dai tedeschi. Magari ha perso parenti, magari ha perso amici, anzi sicuramente ha perso parenti e amici. Cosa fa quel soldato polacco, quel polacco quando ritorna in Polonia? Cosa fa? Se non cercare di farla pagare il più sanguinosamente possibile a coloro che ritiene responsabile di quella sventura? Terribile? Sì. Ingiusto? Sì. Ma umano? Altrettanto ancora più terribilmente umano. Non stiamo a girarci attorno con un signore. Odio chiama odio, chi semina vento raccoglie tempesta. I tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, dopo la firma della resa, pagarono un prezzo spaventoso perché parliamo di milioni di profughi, le popolazioni tedesche dell'est Europa che vivevano in quelle terre da secoli cacciate perché tedesche e ritenute a torto, ma spesso e volentieri a ragione, complici delle atrocità commesse da Wehrmacht SS. Chi semina vento raccoglie tempesta. E questo libro racconta la tempesta dopo l'8 maggio 1945. Cioè veramente finita la guerra i russi in Ucraina e Polonia dovettero letteralmente combattere contro ucraini e polacchi che si ammazzavano fra di loro. Cioè ci sono racconti terrificanti di quello che combinarono. Gli ucraini davano la colpa ai polacchi, i polacchi davano la colpa agli ucraini, gli ucraini volevano far pagare ai polacchi le durissime leggi segregazioniste fatte, la durissima politica segregazionista fatta e di polonizzazione forzata ideata da Pilschitzky durante la sua presidenza. I polacchi odiavano gli ucraini, odiavano i bielorussi, odiavano i lituani e finita la seconda guerra mondiale si diedero un gran da fare. E ricordiamoci anche la cosa peggiore, che i polacchi continuarono i pogrom contro gli ebrei e molti polacchi dissero che avrebbero voluto finire il lavoro cominciato dai tedeschi. che vi posso dire signori? Un libro da leggere, cioè un libro che però per durezza e per la crudeltà, la brutalità, la spaventosa, ferocia dei contenuti, va letto veramente con stomaco d'acciaio. E vi posso dire che ci sono episodi che definire... Cioè l'incubo, le porte dell'incubo, cioè l'incubo che precipita sulla terra, l'inferno che precipita su questo pianeta, l'Europa trasformata dopo il carnaio della guerra in un ancor più sanguinolento carnaio. Cioè, ripeto, io leggendo questo libro sono rimasto agghiacciato da quello che ho letto, da quello che sto leggendo. Se un papa in guerra di Kertzer mi ha fatto rabbrividire per gli spietati e sgradevoli, quantomeno, calcoli politici di Papa Pio XII, se questo libro veramente ti lascia impietrito per quello che leggi. E credetemi che ci sono cose spaventose, terrificanti. Io non so come altro descriverlo. Un libro che va letto, ripeto, ma è un libro che va letto con stomaco d'acciaio e nervi saldi. Perché secondo me molti... Allora, se lo comprate, se la mia utenza comprerà o si procurerà questo libro, io sono sicuro che almeno una terza parte della mia utenza non riuscirà a finirlo per quello che leggerà. credetemi, è una lettura spaventosamente dura da affrontare proprio per la crudezza, per l'atroce brutalità e violenza dei contenuti. Non credo ci sia altro da dire. Mi sono ripetuto? Sì. Lo sapete che sono logorroico? Sì. Lo sapete che sono prolisso? Sì. Non è colpa di me. Io parlo a braccio e tendo a ripetere. Scusate tanto. Però il mio consiglio è questo. Per capire il perché di certe cose trovate il coraggio di leggerlo, trovate il coraggio di affrontare questo libro e scoprirete qualche cosa di... cioè scoprirete veramente quanto l'Europa, quanto il nostro continente fosse precipitato nel più spaventoso, nel più orrendo degli abissi. Tutto qua. Signori, Kit Law, editori La Terza, Il continente selvaggio, l'Europa alla fine della seconda guerra mondiale. Un libro che vi consiglio caldamente, ma utente avvisato, mezzo salvato. Non sarà un libro facile da leggere, non sarà un libro facile da affrontare, non sarà un libro che si potrà prendere alla leggera. Il continente selvaggio di Kit Law. Leggetelo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Signori, arrivederci al mio prossimo video e grazie di tutto cuore per avermi ascoltato. E soprattutto, come sempre, tanto per cambiare, ciao!